La mia passione per il ciclismo nasce a metà degli anni 90, a mio padre piaceva tanto il ciclismo, era un tifoso di Moser, di Gimondi e la mia passione nasce un pomeriggio di aprile guardando una Liegi Bastogliegi, guardando Michele Bartoli vincere quella Liegi Bastogliegi contro due corridori della stessa squadra, che erano due corridori della Onse. Da lì ho iniziato a seguire Michele Bartoli, poi ovviamente Pantani. Anno dopo anno la mia passione è cresciuta fino ad arrivare a coronare il mio sogno di lavorarci nel ciclismo, andare alle corse, andavo sempre a vedere le tappe del Giro d'Italia quando vivevo a Milano. Esserci è qualcosa di incredibile. Sicuramente il Giro d'Italia 2020, che torna qui dopo 31 anni, è un'opportunità unica che queste terre non possono perdere, non possono sprecare. È un passaggio di qualcosa di unico, è uno spettacolo che dura non solo con il semplice passaggio della corsa, ma con tutto ciò che lo precede. Con le iniziative di RCS, dell'organizzatore, che praticamente ti porta a casa, ti porta a casa tutta una serie di spettacoli, di manifestazioni parallele alla corsa. Non è come una partita di calcio che sei tu che devi andare allo stadio. E lo stadio è praticamente lo spettacolo che viene da te. È un'occasione soprattutto perché mancando da così tanti anni forse è mancata anche un po' la passione, soprattutto da parte dei ragazzini. È difficile trovare dei ragazzini in bici in queste zone. Anche io lavorando comunque in un ambiente che non solo i professionisti, ma conta anche la categoria juniores, è praticamente impossibile vedere dei ragazzi calabresi alle grandi corse juniores. Quindi, oltre alla promozione del paesaggio, può essere veramente una grandissima occasione per tutta la Calabria. La Vini Zabu KTM è una squadra che festeggia quest'anno il suo dodicesimo anno tra i professionisti. E ovviamente il nostro grande obiettivo è essere al Via del Giro d'Italia. L'anno scorso abbiamo saltato un turno e speriamo che quest'anno il RCS ci consideri al Via della Corsa Rosa. Abbiamo una squadra molto motivata, una squadra che ha forti radici del sud, perché abbiamo un capitano siciliano come Giovanni Visconti, abbiamo uno sponsor siciliano come Vini Zabu. e quindi per noi sarà molto importante soprattutto il Via di questo Giro d'Italia, perché dopo i primi tre giorni di Budapest si passerà per la Sicilia, si passerà per la Calabria e quindi speriamo di avere tantissimi tifosi sulle strade. Giovanni Visconti, che ha compiuto proprio ieri 37 anni, è il nostro capitano. È un corridore strepitoso, ma soprattutto umanamente per tutti noi è un modello. È un corridore che l'anno scorso, in due mesi, è passato dal letto di un ospedale in Austria alla vittoria del Giro della Toscana davanti a Egan Bernal, vincitore del Tour de France. E dopo due settimane è stato convocato ai mondiali. Lui è la nostra guida e il nostro progetto sportivo quest'anno è soprattutto legato alle sue prestazioni. Giovanni Visconti non solo grande corridore, ma grandissimo uomo squadra. È un motivatore eccellente per tutti i ragazzini e quest'anno abbiamo veramente tanti giovani. Abbiamo un progetto che ha visto l'anno scorso la creazione di una squadra Under 23 dedicata a Franco Ballerini, che era affiancata alla squadra Juniors, anche quella in memoria di Franco Ballerini. E da questa squadra Under 23 abbiamo fatto passare professionisti tra i corridori. Quindi diciamo che il nostro modello di squadra è questo, Giovanni Visconti Capitano e tantissimi giovani al suo fianco. Professionalmente le mie più grandi soddisfazioni sono state partecipare a tre giri d'Italia, a tre Milano-Sanremo, a due giri delle Fiandre. Però porto nel cuore un giorno in particolare che è stata l'anno scorso la vittoria di Simone Velasco al Trofele Gueglia. Perché era dal 2016 che non vincevamo una corsa in Italia e vincerla così, con 50 km in solitaria, è stata veramente una liberazione. Soprattutto considerando che poche settimane prima era arrivato il rifiuto della wildcard per il Giro d'Italia. Quindi quel giorno lì è sicuramente il giorno che mi porterò più nel cuore di questa esperienza. Mi raccomando a tutti i calabresi, voglio vedervi pronti a maggio sulle strade del Giro d'Italia e tifate i vini Zabu KTM. Quando passeremo con la macchina sarà una grande emozione passare su queste strade. Grazie. Grazie.